L'energia vitale, per quanto sia un concetto mistico, abbiamo visto appunto il dio della Bibbia, è allo stesso tempo un concetto estremamente pratico, nel senso che l'energia vitale genera delle conseguenze, queste conseguenze sono misurabili. L'energia vitale ha dei percorsi di scorrimento e questi percorsi di scorrimento sono identici per tutti quanti noi. L'energia vitale svolge delle funzioni e queste funzioni sono simili in tutti gli esseri umani, in tutti gli animali e quindi la conoscenza di queste funzioni che l'energia vitale svolge all'interno del nostro corpo è alla base della scienza della medicina tradizionale taoista. E quando parliamo dei famosi cinque elementi? Bene, ok, dunque, i cinque elementi sono un aspetto apparentemente semplice della medicina tradizionale taoista. Per capire i cinque elementi dobbiamo semplicemente considerare che guardando i fenomeni del mondo noi dobbiamo necessariamente per poterli interpretare metterli in relazione gli uni con gli altri e quindi abbiamo bisogno di quelli che sono punti fermi. I cinque elementi non sono altro che cinque cartelle attraverso le quali noi andiamo a classificare i fenomeni del mondo. Nel senso che, parlando in termini occidentali, noi siamo abituati, se guardiamo gli oroscopi ancora noi diciamo un segno di terra, un segno di acqua, un segno di fuoco, un segno di aria. Ok? Ma che cosa sono i quattro elementi degli occidentali? Sono semplicemente quattro stati della materia. Allo stato terra noi diamo ciò che è solido, allo stato acqua ciò che è liquido, ad aria ciò che è gassoso e a fuoco ciò che è irradiale, ciò che è luminoso. Ciò che gli occidentali dividevano e dividono tutt'oggi in quattro, i taoisti dividevano in cinque. Avevano cinque cartelle che chiamavano terra, metallo, acqua, legno e fuoco. Alla terra davano ciò che è solido, al metallo ciò che è plasma, perché il metallo viene estratto dalla terra ma può essere sia solido sia liquido e può generare gas a seconda della temperatura alla quale viene sottoposto. Il metallo genera liquidi, spiegherò subito che cosa intendo con il metallo genera liquidi, quindi l'acqua per i liquidi anche per noi taoisti, il legno per tutto ciò che tende ad espandersi, che tende a muoversi e il fuoco per ciò che è irradiale. Ma se noi guardiamo qual è l'origine della scuola dei cinque elementi, il mio maestro mi ha insegnato quella che è la dottrina tradizionale. I taoisti tendono a vedere la nascita del pianeta come, ecco, si rifanno a quella che è una teoria che potremmo definire leocentrica, ovvero sia il sole, secondo la scuola taoista nella quale mi sono formato, ha emesso delle sfere, definiamole di plasma, che hanno poi formato il nostro pianeta. Quindi questa sfera di plasma, che era a fuoco, è andata, dato che aveva una natura diversa rispetto a quella del sole, aveva una natura polarmente diversa, era yin, ok? È andata a pian piano raffreddarsi e questo raffreddamento ha permesso al polviscolo stellare di accumularsi su questa sfera. Ed è per questo che il fuoco ha generato la terra. La cottura da parte del globo centrale di quello che era il polviscolo stellare ha generato delle densità, che definiamo metalli. Questi metalli, fuoriusciti all'esterno della crosta terrestre, per via dello sbalzo di temperatura, hanno creato delle reazioni elettriche, queste reazioni elettriche hanno creato delle precipitazioni, ed è per questo noi diciamo che il metallo generi acqua. L'acqua caduta sulla terra ha permesso le basi della vita, ed è per questo che l'acqua genera il legno, nel senso il legno come vegetazione, come vita, e il legno genera fuoco, nel senso che la vegetazione genera il fuoco stesso dell'esistenza. Quindi il grande movimento degli esseri. Questi cinque elementi sono quindi cartelle per interpretare i fenomeni e in questi cinque elementi noi andiamo, tra questi cinque elementi andiamo a classificare gli organi del corpo. Quindi al cuore noi daremo il fuoco, alla milza noi daremo la terra, ai polmoni noi daremo il metallo, al fegato noi daremo il legno, al legno il fegato, e all'acqua i reni. Ai cinque elementi sono associate specifiche emozioni, distruttive e costruttive. Quindi c'è una relazione tra emozioni, organi, elementi? Assolutamente sì. Per esempio, le emozioni che distruggono il cuore sono l'odio e l'eccesso di euforia. Quindi se una persona tende a vivere costantemente euforizzata dalla vita che fa, piuttosto che dall'assunzione di sostanze, ovviamente tutto questo andrà a danneggiare il cuore. L'odio distrugge il cuore. E che cos'è che nutre il cuore? Quello che nutre il cuore, secondo i taoisti, è la lealtà, la sincerità e il senso dell'onore. Quindi anche la tranquillità, la pace interiore forse ha più a che fare con quella che è la serenità della milza. Andiamo a vedere queste categorie che sono interessanti. Quindi avremo che, così come il cuore, invece i polmoni vengono distrutti da quella che è l'angoscia. Quando io sono angosciato costantemente da qualcosa, i miei polmoni vengono esauriti. Che cos'è che nutre i polmoni? L'integrità. Se io sono integro con i miei principi, quindi posso essere sincero quando parlo, i miei polmoni possono essere forti. Ciò che distrugge il fegato è l'ira. Lo diciamo anche in occidente, d'accordo? L'ira distrugge il fegato. Ma che cos'è che nutre il fegato? Beh, l'empatia, ovvero la capacità di guardare il mondo attraverso gli occhi degli altri. Questa è una cosa molto importante. Ciò che distrugge la milza e l'ansia. L'ansia distrugge la milza. E milza e stomaco sono un'entità non separabile secondo i taoisti. Quindi tutti i problemi di ansia vanno poi a riflettersi su quelle che sono le funzioni di milza e stomaco. Anche se devo specificare, per chi mi ascolta da casa, che le funzioni degli organi della medicina taoista non sono esattamente come quelle della medicina cinese. Quindi andrò poi a dettagliare ancora meglio quello che sto dicendo. E per quanto riguarda i reni, ciò che distrugge i reni è la paura e ciò che li nutre la disponibilità. Ma se andiamo a guardare poi quelli che sono i funzionamenti delle strutture stesse degli organi, beh qui si apre un mondo affascinante, perché lì si vedono le vere grandi differenze. C'è da specificare che l'anatomia stessa degli occidentali, della medicina occidentale è stata fatta sui morti necessariamente, sui cadaveri. Purtroppo la storia dell'anatomia cinese, questa è una cosa che nell'università non si insegna, è stata fatta sui vivi, sui torturati e quindi si sono studiate, mi dispiace puoi mettere qui davanti a voi delle cose così raccapriccianti, sono studiate delle reazioni molto particolari fra organo e organo. Quindi volendo andare a volo d'uccello necessariamente, superficialmente, per quella che è la visione consentita in questo spazio. Diremo che i reni sono alla base della vitalità stessa. I reni non sono visti soltanto una loro funzione filtrante. I reni sono forse più visti in quella che è la funzione delle surrenali. I reni sono visti come ciò che permette fecondità, fertilità e vigore. Il fegato è visto come l'organo che permette all'uomo di potersi riposare ed è per questo che deve essere pulito, perché senza il fegato pulito non può esserci rigenerazione del sangue. Senza rigenerazione del sangue non può esserci rigenerazione dello spirito. I polmoni sono visti come la sentinella del corpo, ovvero non c'è nessuna differenza fra polmoni, pelle e difesa del corpo da quello che è l'attacco dei fattori patogeni esterni. Quindi i polmoni devono, è dato una grande importanza a quelle che sono le tecniche di respirazione, le tecniche di assorbimento vitale attraverso il respiro, il qigong. Il cuore è l'imperatore, la sede delle emozioni e allo stesso tempo è il luogo in cui il sangue riceve il nutrimento spirituale. Quindi il sangue viene formato dalla milza ma diventa ciò che è, ovvero sia un liquido puramente spirituale grazie a quella che è l'attività del fegato. La milza è vista come il granaio. Quindi ciò che permette agli alimenti di essere scissi, spaccati, convertiti in energia e la milza stessa porta attraverso l'attività del sangue e dell'energia vitale questa energia in tutto il corpo. Quello che c'è da dire, questo è molto importante, quando parliamo di medicina tradizionale cinese, abbiamo parlato di qi, dobbiamo parlare di altre due parole che possono sembrare un po' esotiche, che sono jing e sen. Jing significa essenza, è letteralmente ciò che muove gli spermatozoi. Il jing che cos'è? Ci tengo a chiarire questo concetto perché sui testi universitari purtroppo non è assolutamente chiaro. Il jing è una pepita d'oro che ci viene donata dai nostri genitori al momento del concepimento. Questa pepita d'oro la immagini Francesca come in continuo rilascio, ossia questa pepita d'oro lascia andare sempre una parte di se stessa nel sangue e permette la vita. Quando noi ci nutriamo è come se noi ci nutrissimo d'argento, quindi noi immettiamo cibo, aria, acqua, emozioni e queste fonti di energia sono argento. All'interno del nostro corpo esiste un organo energetico nel ventre che noi chiamiamo campo dell'elisir in cui questo argento viene trasformato in oro in modo da ripristinare la forza di questa pepita, il valore di questa pepita. Purtroppo la capacità di trasformazione dell'argento in oro per la maggior parte degli uomini tende a essere lenta, quindi tendiamo a spendere un po' di più di quello che noi andiamo a guadagnare. Il punto fondamentale della medicina tradizionale taoista è accelerare il processo di trasformazione dell'argento in oro, se mi permettete la parafrasi ancora. Nel momento in cui noi facciamo questo il corpo ritrova la via della guarigione. Ecco penso che come spiegazione sia abbastanza... Tornando ai sentimenti, abbiamo parlato di diversi sentimenti, ma l'amore cosa nutre? Beh l'amore sicuramente nutre il cuore, però dobbiamo fare un distinguo necessariamente. Che cos'è amore? Nel senso che... E' forse il motivo per cui non l'aveva citato nel... Sì, esattamente. Tra i sentimenti. Beh già capire la differenza tra emozioni e sentimenti è molto complesso, nel senso che come potremmo definire un sentimento rispetto ad un'emozione? Forse il sentimento è un'emozione più saggia, che viene da un vissuto, mi permetto di dire? Non so. Ma l'amore è un concetto molto complesso, nel senso che... Ecco, beh Francesca lei conosce le mantidi religiose, lei sa che la femmina nel momento dell'accoppiamento uccide il maschio e se ne nutre. Ma è amore? Sicuramente sì, è l'amore della mantide. Quindi amore è una parola che include un concetto estremamente complesso. Allora quando l'amore è sicuramente vero amore, nel senso che è un amore profondamente spirituale, dove noi pensiamo più al bene altrui che non al nostro, beh in quel momento sì, effettivamente stiamo amando e in quel momento stiamo nutrendo. Nutre il cuore perché è leale. Certo, assolutamente, bravissima.